Una tappa veramente importante per la Cappella musicale del Duomo di Fano è come festeggiare i 18 anni, la maggiore età, perché siamo cresciuti tanto sotto ogni profilo, dal servizio liturgico che continuiamo a prestare con costanza, agli eventi in città, i concerti, gli scambi con altri cori italiani ed europei e quindi il concerto del decennale pensiamo sia il modo migliore per festeggiare il compleanno. Volevamo ringraziare l'orchestra Santa Maria del Suffragio che ci aiuta e ci accompagna nel concerto diretta dal maestro Daniele Rossi e quindi vi aspettiamo numerosi domenica presso la Pinacoteca San Domenico per festeggiare insieme. A che ora sarà l'appuntamento e anche in che cose vi esibirete? Allora il concerto del decennale sarà domenica 19 giugno alle 21.15 presso la Pinacoteca San Domenico di Fano. È un importante concerto che vede la partecipazione della formazione corale al completo, quindi i pueri cantores che sono una trentina di bambini e anche gli adulti. Questo concerto vedrà l'esecuzione di alcune musiche di repertorio a cappella e accompagnate dall'organo del maestro Felicioli, ma ancora di più vedrà l'esecuzione del Gloria Re Maggiore di Antonio Vivaldi che è un'importante opera per coro, solisti e orchestra e ci sembra che con questa composizione saremo proprio un bel regalo alla città così da poter festeggiare insieme i nostri primi dieci anni.